E' abbastanza vecchia l'accusa che viene fatta alla Chiesa che fa politica, è una cosa che ogni tanto, soprattutto quando alcuni nell'ambito dei vari partiti si mettono in vista, pensano di raggiungere chissà quali risultati e poi non riescono, devono trovare qualche scusa, devono trovare qualche capretto espiatorio. E allora spesso e volentieri, ma la Chiesa ha fatto politica, la Chiesa ha preso partito, eccetera, eccetera. Cosa possiamo dire? Da una parte mi piace anche dire che ci sono stati tempi in cui la Chiesa effettivamente è entrata abbastanza decisamente in modo anche diretto. E se siamo onesti dovremmo pensare come nel 1948, quando la Chiesa si è schierata con tutte le sue energie e con tutte le sue potenzialità perché non cadessimo in certi regimi, credo che un grazie, in quel caso lì dovremmo dirlo, alla Chiesa, che ha evitato all'Italia quello che è successo a certi poveri paesi che sono restati sotto il gioco comunista per decenni e decenni e abbiamo visto come ne sono usciti. Quindi che la Chiesa in quell'occasione lì abbia fatto politica e abbia fatto bene a farla, credo che dovremmo quanto minimo riconoscerlo. Poi dopo, da quel giorno lì in avanti, ognuno può dire quel che crede, ognuno può pensarla come vuole. Quindi l'intromissione. Possiamo dire che in certi momenti c'è stata. Però Don Giovanni, fare politica, qui probabilmente si tratta di chiarire un pochettino i termini perché è troppo comodo lanciare l'accusa, la Chiesa fa politica. Probabilmente si tratta di capire in che termini la faccenda può o non può essere fatta, è giusto o non giusto che la Chiesa, i suoi ministri, i vescovi, eccetera, possano entrare in questo discorso. Chiariamo un pochettino quella parola lì che forse per chi vuol capirla aiuta a intenderci sul fare o non fare politica. Beh oggi si usano tante parole ma non si capiscono. Tanto è vero che se ti ferma uno e ti dice ti voglio bene, dici ma cosa è? Così anche oggi fare politica. Beh politica è una parola greca deriva da politeuo, polis. Polis è la città e diremo così è la convivenza degli uomini qui sulla terra e naturalmente fare politica vuol dire che tu non te ne stai fuori ma cerchi il bene ecco di questa umanità perché praticamente la Chiesa pur non essendo del mondo, le sue idee non sono del mondo ma vive nel mondo. Quindi la politica addirittura occorre farla nel senso che tu ti interessi dell'uomo mettendoti al servizio, non diventando un corrotto sfruttando le persone ma cercando il bene dell'umanità. E se noi risaliamo poi al concilio Vaticano II, quella grande riunione mondiale, ha detto che la Chiesa deve guardare al mondo cum gaudium et spes, cioè con gioia e speranza, non dire ma di qui di là. Il mondo è amato dal Signore, è il suo regno. Quindi anche la Chiesa, diciamo così, magari non fa partitismo che è una cosa diversa ma si interessa del bene dell'uomo in quanto immagine di Dio è chiamato ad essere sua immagine e a vivere insieme con gli altri questa meravigliosa esperienza qui sul pianeta Terra. Beh ecco in effetti vedete che la cosa è molto semplice presa come Don Giovanni sta spiegando l'origine di questo termine politica. E' chiaro che la Chiesa non entra nelle parti, non entra nei partiti, non è suo compito ed è giusto che se ne stia fuori diciamo al di sopra delle parti, usiamo pure questo termine qui, cioè non entra a giudicare i partiti nel senso che non prende parte a questo o a quello. Fa politica nel senso che ha a cuore la vita degli uomini, ha a cuore la storia della società, ha a cuore il bene comune. In questo senso qui ci sarebbe da meravigliarsi che la Chiesa non faccia politica, cioè non si interessi, cioè viaggi sulle nuvole. E la faccenda Don Giovanni credo che nasce un pochettino lontana perché il nostro Dio in cui crediamo non è un Dio che è restato nell'alto dei cieli ma in Gesù Cristo ha messo piede su questa terra, si è incarnato appunto come noi diciamo. E allora la Chiesa che ha il compito di continuare nel tempo l'opera di Gesù Cristo portando la sua parola, credo che debba incarnarsi dentro la storia dell'umanità. Incarnarsi perché Gesù Cristo ha avuto pur qualcosa da dire sull'umanità, su che cosa è buono, su che cosa non è buono, su che cosa è da perseguire, su che cosa è da lasciare. E la Chiesa credo che debba, per essere sale della terra come Gesù Cristo le ha chiesto di essere, proseguire questo sguardo amorevole ma anche capace di mettere in guardia su scelte o non scelte che vengono fatte. La via di Dio è il bene dell'uomo, Dio è venuto per il bene dell'uomo e la Chiesa è il mistero di Gesù, il mistero di Dio che continua nel tempo, quindi arriva fino a noi e nello spazio, cioè su tutto il pianeta Terra, perché il Signore si prende a cuore davvero il bene dell'uomo. Certo anche quando parliamo di Chiesa non è proprio così scontato da un leone, perché tanti pensano che la Chiesa sia il Papa, quattro cardinali o quattro diciamo sacerdoti un po' fuori di testa. E per Chiesa si intende tutta una comunità dove c'è la gerarchia, il Papa, i Vescovi, ma ci sono i laici e specialmente loro oggi dovrebbero essere quelli che in virtù del battesimo portano avanti nel mondo i valori di Cristo che sono per modo di dire il rispetto della vita, la famiglia, la dignità, l'uguaglianza e diciamo così la bellezza di ogni colore della pelle, di ogni persona, l'uguaglianza tra maschio e femmina, cercare veramente l'uomo che sia curato anche nel corpo e anche nell'anima, perché non basta che l'uomo sia un sacco da riempire di cibo e di soldi, l'uomo ha anche un'anima, quindi i valori spirituali. E allora penso che la Chiesa si è intesa non come una casta di persone, ma come questo popolo di Dio che cammina nella storia, e ognuno ha il suo compito. Se il prete deve annunciare, diciamo così, ad essere fedele al Vangelo, ecco i laici in virtù del battesimo lo ascoltano e cercano di animare le realtà temporali dello Spirito di Cristo. Quindi penso anche adesso le nostre chat che ci sono in giro, cioè queste nuove comunità territoriali, questo risveglio anche del mondo laicale, possa portare tanto bene nel mondo, guardando proprio e lasciandosi illuminare dalla luce di Cristo e del Vangelo. Ecco, noi veniamo anche da un tempo in cui sono girate alcune teorie, che non diciamo né di destra né di sinistra né di sopra né di sotto, in cui la religione veniva un pochettino messa all'angolo, cioè è come dire una faccenda privata. Vuoi credere in Dio? Ci credi? Non vuoi credere? Tralasci? Se ci credi vai in Chiesa e vai a fare le tue devozioni, eccetera, ma poi la faccenda finisce lì. Questo è stato il dramma, e lo è purtroppo per tanti, questa separazione tra fede e vita, tra fede e storia. E mentre la fede vera è una fede appunto che si incarna, è una fede che ha da dire qualcosa sulla vita, è una fede che vuole illuminare la storia, che vuole dire all'uomo quali sono i sentieri nella luce del progetto di Dio che vanno perseguiti, quali sono le cose che invece contrastano il bene della persona e il bene della società. Quindi la fede non è una questione di sagrestia, è una questione di storia, è una questione di vita. Arriviamo addirittura, Don Giovanni, al buon santo Paolo VI, il quale è arrivato addirittura a dire che, soprattutto per i laici chiaramente in questo caso, ma tutte le persone, quindi anche i credenti, anche i cristiani, perché no, anzi, con qualche motivo forse in più, la politica è la misura più alta della carità cristiana. E' impressionante questo. Oggi noi pensiamo alla carità in tanti modi, per carità giusto, far la carità, il sostenere i poveri, il venire incontro ai bisognosi. Ecco, la carità più alta oggi è la politica. E' impressionante questa frase di Paolo VI. E bisogna anche ripeterla nel mondo contemporaneo, perché sono rare le persone che con queste idee, con questi valori, si mettono nei nostri paesi, nel nostro Stato, a servizio. Quindi non per le proprie tasche, non per i propri interessi, non per le proprie trappole, ma si mettono a servizio dell'uomo. E' naturalmente tanta ammirazione per chi anche oggi, diciamo così, nel nostro realtà, diciamo, nei nostri paesi, nelle nostre provincia, nella nostra Italia, si mette al servizio. Certo, dovrebbero un momentino confrontarsi se la loro fede, se l'hanno, perché tante volte pure è una fede solo di santuari e di santini, ma che non si incarna, se la loro fede in Gesù corrisponde poi a quello che proclamano, votano e portano avanti. Perché se Gesù ti dice che la vita va rispettata, poi voti per l'aborto, e praticamente mi disfi la famiglia, se pensi che la domenica sia soltanto un business, e tu dici di essere cristiano, ti devi un momentino vedere se stai servendo l'uomo, o se non stai invece servendo le tue idee, o magari qualche lobby politica che ti dice di fare così e cosò, o forse anche qualcuno, magari anche corrotto, perché quel fare politica gli viene in tasca un po' di euro. Però chi veramente si impegna con questo spirito nella Chiesa, a servizio dell'uomo, dei suoi valori, oggi è da ammirare, anche perché c'è tanto in giro, me ne frego, chi mi interessa, io faccio i cavoli miei, alla se devo buttarmi dentro lì, cosa mi dai se lo faccio? Oggi qualcuno che veramente parte con questo spirito è veramente da lodare, incoraggiare, e diremmo anche la Chiesa ci insegna sempre a pregare per quelli che lavorano nella politica, sempre, perché la prima preghiera dei fedeli dovrebbe essere per la Chiesa, la seconda per chi ci guida, la terza per gli ammalati, quelle persone che sono in difficoltà. Ecco, tu dici bene Don Giovanni, perché sembra che tante volte si fa faccica anche a trovare persone che si diano disponibili, lo vediamo nelle nostre attività anche parrocchiali, per carità, nell'ambito della vita di Chiesa, tante volte, ecco, il lasciar fare agli altri, ma chi me lo fa fare, e così via. Oggi direi che forse un campo in cui il rischio del disinteresse, del disimpegno è proprio quello dell'amministrazione dei paesi, è quello della politica anche nazionale, eccetera, fatta con un certo spirito e con gente che ci mette cuore, ma soprattutto alla luce di valori, oggi si parla tanto di valori, appunto, ma quali valori sbandierati tante volte in modo superficiale, anche perché, in effetti, anche dal punto di vista dei cristiani, dei battezzati laici, eccetera, sembra che ci sia una certa insignificanza nel mondo, vuoi perché non si è presenti, vuoi perché si ha paura a dire le proprie idee, vuoi perché non c'è modo di farle conoscere tante volte queste idee, perché anche giornali e televisioni tante volte si piegano appunto agli interessi di lobby, si piegano agli interessi di quello che sembra più comodo e più piacevole e così via, e si rischia di lasciare perdere quelle che sono le cose forti, che magari danno anche un po' fastidio, che chiamano anche alla verità delle cose della vita e così via, per cui una certa insignificanza, mentre, e qui ancora, i papi, e qui il concilio, eccetera, chiama la chiesa ad essere presenza profetica, ecco, anche questa parola qui che non è balenga, ma è importante proprio pensare a una chiesa dei cristiani che dentro la storia e dentro il mondo sono una presenza e una voce profetica. Profetica è una parola anche lì greca, deriva parlare al posto di un altro, che la vita, la tua vita, possa parlare in nome di Cristo nella società di oggi. Certo, mi sembra una cosa che forse nella chiesa e nel mondo contemporaneo, non solo il nostro mondo cristiano, manca, che è quella che è la formazione alla politica, perché se uno vuole fare il carrozziere deve fare dei corsi, l'elettricista deve avere un diploma, se insegna, insomma, insegna quel, però perlomeno in mano un pezzo di carta, oggi chi prepara questa gente che magari non ha mai lavorato, magari ha chiuso un appartamentino, ha detto vai su te, ma se non ho mai guidato, come farò a guidare gli altri? Forse dovrebbero mettere fuori il cartello pubblicitario dicendo non seguitemi perché mi sono perso anch'io. E di fatti un po' l'Italia sembra che navighi dentro la gente che si è persa, non ha più valori e significati. Quindi secondo me è una cosa a cui dovremmo pensare tutti insieme, credenti e non credenti, è quella della formazione di queste persone che vogliono poi guidare gli altri perché se non lo sanno neanche loro dove andrà l'umanità. Quindi forse anche il compito della Chiesa è di istituire non so, delle scuole, dei momenti, dei valori e ci sono delle persone forse che hanno delle idee, esporle, confrontarsi e creare magari anche una scuola che possa poi dare dei valori perché adesso sembra che la politica in Italia si faccia io voglio la pensione beh vota me l'altro io voglio andare in ferie gratis vota me io voglio andare al mare però al mare non ci devono essere le focche vota me cioè tutti i destini ma praticamente ma qual è il bene dell'uomo italiano che veramente lo realizza della società di oggi che cosa ne ha bisogno cosa vuol dire dare lavoro agli uomini ma perché lavorare che senso ha dove vogliamo arrivare ecco queste cose bisogna anche un momentino discuterle formare dei laici perché se no ci troviamo di fronte a gente che si è persa beh in questo senso qui direi c'è da apprezzare quel lavoro che ha fatto in questi ultimi mesi e che sta facendo ancora anche qui in Val Seriana le ACLI le ACLI hanno organizzato dei corsi proprio di formazione per coloro che intendono prendere in mano l'amministrazione di un paese dedicarsi appunto al fatto politico nel senso nobile del termine e credo che ci sia da apprezzare ho sentito che c'è tanti anche giovani che si sono interessati e che hanno partecipato in effetti il pensiero anche di entrare in un'amministrazione comunale se uno non sa quasi neanche dove è la porta del comune o nel paese non si è mai interessato di niente né nel volontariato né nella disponibilità nei servizi vari è un po' problematica la buona volontà magari va apprezzata però la buona volontà deve essere anche formata deve essere anche aiutata ad esprimersi al meglio per cui ecco giustamente tu dici il compito della chiesa è un compito di chiamare a quali sono le cose buone per la vita di un paese per la vita delle persone per la vita di una città il compito di indirizzare anche profeticamente di essere critici su certe cose nella luce del Vangelo e nella luce della dottrina sociale della chiesa perché poi noi non siamo così sprovveduti i papi hanno fatto dei documenti solennissimi leone decimo terzo più dodicesimo Giovanni ventitreesimo Giovanni Paolo II ci hanno dato delle indicazioni formidabili su che cosa vuol dire perseguire il bene e che cos'è importante per chi si impegna al servizio degli altri nell'amministrazione e nella politica e anche non Giovanni andando un po' a chiudere un po' l'aiuto anche a usare un certo stile perché anche credo il far politica in una democrazia deve avere anche un certo stile cioè le persone violente nel modo di parlare le persone scostanti nel modo di rapportarsi a chi non la pensa come te le persone che utilizzano dei metodi quasi dittatoriali nella gestione della cosa pubblica credo che ci sia uno stile nel far politica che deve essere anche messo in conto in chi si impegna in questo è importantissimo quello che stai dicendo beh qui in Valle Seriana in questo mese si è fatto il festival delle relazioni che sta settimana anche a Vertova c'è proprio questo le relazioni che oggi devono esserci all'interno della società beh parliamo tra quello tra uomo e donna tra genitori e figli ma anche tra gente tra gli stessi condomini e roba del genere però credo che oggi ecco ci vuole come dicevi Don Leone quell'equilibrio diremo anche quell'ascolto del territorio delle persone perché se una persona legge è importante che legga che senta i documenti anche della chiesa che si confronti però ecco deve vedere anche un po' il terreno sul quale un momentino seminare queste cose la grande virtù diciamo della proposta ma anche dell'ascolto vero di esigenze a volte anche concrete perché a volte si vedono che si fanno anche delle cose che poi non servono a nessuno quando invece ci sono delle piccole cose che nessuno ascolta perché con quella piccola cosa non vai poi in provincia non vai col tal senatore non è importante quindi è meglio fare quello perché quello diremmo da look da richiamo ecco andiamo a chiudere il tempo se n'è andato ci siamo persi un attimino in questa riflessione la chiesa è al di sopra delle parti politiche al di sopra dei partiti assolutamente non deve mischiarsi non si mischia ma la chiesa ha diritto la chiesa fatta soprattutto di laici che abita il mondo che vive nella storia di essere presenza di essere voce di essere voce che incoraggia di essere voce anche che è critica in modo intelligente quindi quel far politica che vuol dire appunto aver a cuore il bene delle persone il bene della città il grande Don Milani in quella scuoletta di Barbiana dove raccoglieva un po' i ragazzi per cercare di dargli un po' di istruzione aveva messo quel cartello che poi è scritto in inglese ma ormai lo sappiamo quasi tutti I care mi sta a cuore mi interessa le cose degli altri non in modo pettegolo ma in modo da prendermi a cuore mi interessano ecco anche coloro che si mettono nell'ambito della politica e dell'amministrazione locale con questo cuore con questa disponibilità vanno veramente apprezzati ammirati e incoraggiati e magari ci si preghi sopra anche un po' che il Signore li illumini e li accompagni grazie Don Giovanni della tua testimonianza grazie a voi che ci avete seguito come sempre l'augurio di una buona domenica grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi